Acerci la conta! Siamo con il maestro Angelo Faccia con una schiera qui di Assergesi a Madonna di Campiglio. Come vanno questi allievi? Bene, si migliora sempre, ogni giorno. Ecco, c'è stato un miglioramento sensibile in questi giorni di allenamento? Da parte di tutti quanti. Senti, ma gran parte di questi atleti si sta allenando per un evento particolare, per quale motivo? Sì, vorrei portarli il più vicino possibile alla gara del Gran Sasso, dell'INFN. Trofeo INFN, se ci racconta. Nelle migliori condizioni possibili. Chi è il papabile vincitore di quest'anno? Ma un pretendente potrebbe essere Davide con altri ragazzi di Assergesi. Senti, ma quest'anno ti risulta che siano stati fatte delle condizioni particolari di partenza per evitare che tu possa vincere di nuovo questo trofeo? Ma no, oramai vanno avanti i giovani. Abbiamo una certa età e mi batterò. Grazie al maestro Faccia. Prego. Grazie a tutti. Wicca, 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 Wicca! Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Sergi racconta!